Buongiorno, è stato un lungo incontro, un lungo scambio di informazioni, ho chiesto aggiornamenti ovviamente per quanto riguarda il terreno e ovviamente la situazione è quella che conosciamo nel complesso, ho espresso la preoccupazione dell'Italia, del mio governo per la situazione che si è creata, che consideriamo molto critica, noi invochiamo, sapete, la cessazione e quindi il cessato e il fuoco e confidiamo che si possa arrivare e percorrere una via politica perché riteniamo che il dialogo politico sia l'unica soluzione rispetto all'opzione militare che invece è in corso. Abbiamo parlato a lungo.